Consigliere regionale Picarone, oggi pure a Bartipaglia, si aspetta l'arrivo del Premier, diciamo, del governatore della campagna De Luca, allora che significa questo? Purtroppo non è ancora Premier, sarebbe un'ottima cosa per l'Italia se fosse Premier. Al di là della battuta, è stata finora una bella campagna elettorale da parte di Antonio Visconti, è cresciuto sensibilmente nel tempo, ha saputo disporre i contenuti di questa campagna elettorale e trasmettere ai cittadini di Bartipaglia in maniera efficace. Penso che la sua opera all'asi, ma anche la sua vicinanza istituzionale al governatore, è una carta che lui sta giocando molto bene in questa campagna elettorale e che consentirà, se diventerà sindaco, come io mi auguro, consentirà a Bartipaglia di raccogliere una grande opportunità di sviluppo, perché le risorse disponibili col PNRR che passano attraverso la regione, ma anche quelle della programmazione 21-27, sono ingenti e abbiamo bisogno di progetti esecutivi e di uscire da una mediocrità. Bartipaglia ha grandi potenzialità per l'industria che ha, per l'agricoltura che ha, per il territorio, la costa e non bisogna sciupare questa occasione. Visconti può essere veramente una carta da giocare per questo territorio e per i cittadini.